Salve a tutti. Di iniziare il video, vorrei anche questa volta invitarvi a vedere il video fino alla fine, lasciare like, iscrivervi, e guardare gli altri video, ce ne sono altri anche sui testimoni di Geova. Oggi tratterò di un argomento classico, cioè le manipolazioni della Bibbia. Infatti ci sono molti video a riguardo ma non so se altri utenti hanno già parlato di questa manipolazione. Nello specifico queste manipolazioni riguardano la nuova traduzione del 2017. La prima è una vera e propria manipolazione, l'altra è un tentativo inutile e mal riuscito di manipolare la Bibbia. In Luca 10, 5, 9 viene detto, Il verbo che in greco viene usato è metabaino che in greco significa passare da un luogo all'altro, oppure andare. Vi faccio vedere lo screenshot dell'interlineare dell'app la parola punto net, che potete scaricare sui cellulari, e funziona bene soprattutto con Android. Lì potete scaricare molte versioni della Bibbia, anche in lingua originale. Ovviamente per i testimoni di Geova è assurdo pensare a una cosa del genere, loro sono famosi perché vanno in giro a predicare di casa in casa, e si sono diffusi in questo modo. Ma la loro traduzione dice questo. Non vi trasferite da una casa all'altra. Ma il verbo greco specifica che non bisogna andare da un luogo all'altro. Infatti cercare un posto in cui rimanere per predicare o insegnare non bisogna andare di casa in casa. Insomma, a mio avviso è una palese forzatura, in quel passo Gesù dice chiaramente di non andare di casa in casa, e loro l'hanno cambiata. Brevemente vorrei farvi vedere un tentativo non riuscito di manipolare la Bibbia da parte di TDG, con la relativa spiegazione, completamente ridicola e senza senso. In Colossesi 2.9, nella versione della CEI, c'è scritto. È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Il dogma trinitario infatti dice che Gesù è vero Dio e vero uomo. Loro hanno tradotto con qualità divina, credendo che cambi qualcosa. Questo significa veramente arrampicarsi sugli specchi pur di negare consapevolmente l'evidenza. In perspicacia, alla voce divina loro citano i dizionari, dicendo che effettivamente andarebbe tradotto con divinità o natura divina. Ma in quel caso si tratterebbe di qualità divina e non di persona divina. Ma non significa niente. Se Gesù avesse tutta la qualità divina sarebbe pienamente Dio, è inutile raggirare le persone. E nello stesso articolo loro stessi infatti ricordano che nello stesso brano l'autore dice che non bisogna farsi raggirare da ragionamenti e tradizioni umane, che Paolo chiama filosofia, ma bisogna vedere cosa intendeva dire con essa. Di fatto i T.D.G. ritengono che sia la filosofia ad ingannare. Per ora vi rimando ai video che ho già fatto su che cos'è la filosofia. Questo magari lo tratterò in seguito, per ora mi interessa sottolineare che sono loro gli ingannatori che negano l'evidenza. Io mi sono sempre chiesto se ai vertici delle sette, delle multinazionali, delle organizzazioni massoniche e cose del genere ci siano persone in buona fede, ma che sono talmente convinte delle loro cavolata da inventarsi qualunque cosa pur di non accettare che si sbagliano. O se ci sono anche persone in cattiva fede, consapevoli di dire cose sbagliate che ingannano consapevolmente. Ce ne sarebbero altre ma ho potuto verificare che ci sono altri video su di esse. Ovviamente non ho potuto vedere tutti i video presenti sulla rete e non ricordo tutti i video che ho già visto, infatti questo video è stato frutto di una selezione, tanto che io stavo preparando un video su Filippese 2, 5, 11, ma al momento dell'editing ho scoperto che Giuseppe Longo aveva già fatto un video su questa manipolazione. Io infatti me ne ero dimenticato, e confrontandomi con un testimone di Geova me la sono ritrovata, dimenticandomi di quel video. Detto questo, io mi scuso se qualcun altro ha fatto altri video in cui parlava di queste manipolazioni. Per il momento è tutto, alla prossima.